Buonasera, siamo già stati presentati quindi non è necessario aggiungere nulla e poi sia Carlo Cottarelli che i romani sono sufficientemente noti, presenti in molte occasioni e quindi entriamo subito nel vivo della nostra chiacchierata, della nostra conversazione. Il tema è il PNRR, questo tema è stato al centro del dibattito politico, economico per mesi, settimane, non era chiaro se eravamo in ritardo, se eravamo nei tempi giusti, se andava modificato, poi è stato modificato, ma su cosa bisognava intervenire e su cosa non bisognava intervenire. Dopodiché è scomparso, di PNRR si parla ormai molto poco. Come mai? Vorrei chiederlo a due esperti come voi, osservatori ma anche protagonisti del dibattito economico politico. Cosa è successo? Il tema di questa conversazione è i limiti e potenzialità del PNRR. Abbiamo raggiunto gli obiettivi o i limiti di questo strumento sono tali che hanno fatto sì che il tema scomparisse dall'agenda politica di fronte alle difficoltà che ci sono manifestate. Partiamo con lei. Intanto grazie molto, è già tante volte che vengo qui e per me è un grande onore. Io però vorrei cominciare due minuti su che cos'è questo piano nazionale di ripresa e resilienza, il famoso PNRR. Allora, è stato costruito durante la pandemia un po' inaspettatamente, cioè per la prima volta l'Europa ha fatto le cose in fretta e aggiungerei bene. L'abbiamo visto con la crisi finanziaria, quando scoppiò la crisi greca, c'è voluto molto tempo prima di reagire, prima di prendere delle decisioni, i paesi del nord guardavano male, i paesi del sud. Ecco, questo non è avvenuto con la pandemia. La pandemia è stata una tempesta che ha travolto tutti, non tutti avevamo la stessa barca, c'è chi aveva una barca meno solida e lì abbiamo capito che c'era bisogno di strumenti europei. Cioè, i paesi da soli non sarebbero riusciti a far fronte a una crisi così drammatica come il Covid e quindi si è creato un fondo enorme di debito europeo. Si era già utilizzato il debito europeo, ma mai in maniera così significativa, ma la cosa interessante è che è stato distribuito con dei criteri. Cioè, da noi è stato un po' presentato come una vittoria del Conte 2 che l'aveva negoziato bene. Beh, quello è stato un po' un racconto che ci è stato fatto. In realtà i fondi del PNRR sono stati distribuiti di più a chi stava peggio. Cioè, lo scopo del PNRR è fare in modo di prendere quelle economie che erano state più colpite durante la pandemia e che avevano più fragilità, quindi che hanno affrontato la tempesta del Covid con una barca più malandata, di dare loro la possibilità di recuperare e di diventare più forti e appunto più resilienti in caso di un'altra crisi. E quindi, in poche parole, chi stava peggio ha preso più soldi. E beh, tra questi ci siamo noi. Noi siamo il paese a cui è stato allocato, diciamo, la fetta più grande. È una grandissima opportunità perché, se avete tempo, vi invito, andate sul sito, potete leggere le prime cinque pagine del PNRR, sono a firma di Mario Draghi e ci sono tutta una serie di numeri degli ultimi vent'anni in cui spiegano i ritardi del nostro paese. Quindi, bassa crescita, produttività stagnante, debito molto alto, disuguaglianza in crescita. Ecco, quindi il PNRR ci serve per risollevarci. Però è chiaro che non è facilissimo. Allora, noi cosa abbiamo deciso, e arriva la sua domanda e concludo, abbiamo deciso di prenderle tutte queste risorse. Abbiamo preso oltre 200 miliardi di euro, 120 a debito e il resto sussidi. Allora, è stata una buona idea? Ma, secondo me, se devo essere sincera, si poteva essere più prudenti, si poteva essere più graduali, e qui arriva la mia risposta. Cioè, spendere 210 miliardi, ne abbiamo aggiunti altri 30 di debito nazionale, in così poco tempo, perché il tempo del PNRR è domani, 2026, beh, non è solo un problema del nostro paese, che è comunque un paese che lo sappiamo, lento, con problemi di burcrazia. È un problema, secondo me, anche di tante altre economie. Infatti, se andiamo a guardare i numeri, i paesi che hanno preso tutta la parte che gli è stata destinata, inclusa il debito, sono solo sette. E i paesi che hanno preso il 100% sono tre. Italia, Grecia, Romania. La Spagna, per esempio, che è un paese che è stato molto penalizzato, molto colpito dal Covid, ha fatto una strategia più prudente, ha detto, intanto mi prendo i sussidi. Poi, mano a mano, comincio ad attivare i debiti, ed è quello che sta facendo ora il governo spagnolo, prima delle elezioni, quelle erano le intenzioni. Quindi, ecco, forse è un po' da riassestare, e qui concludo, ma c'è anche un problema di un PNRR che è stato rivisto, perché si comincia a vedere le difficoltà di una quantità enorme di soldi da spendere in un lasso molto breve. Concludo con un'ultima battuta, quei 121 miliardi di debito che noi abbiamo preso viene chiamato debito europeo, attenzione, è debito nostro, con dei tassi agevolati europei, quindi costa meno del debito nazionale, ma sempre debito è. Cioè, si va a sommare a quella mole enorme di debito pubblico che noi abbiamo accumulato negli anni, e penso che poi dopo ne parleremo, perché quello è ciò che ci vincola per il futuro. Cottarelli, siamo stati imprudenti, è d'accordo anche lei da questo punto di vista, e questa grande opportunità che è rappresentata al PNRR e la stiamo sfruttando in modo adeguato, o invece i problemi sono superiori ai risultati che potremmo ottenere? Bisogna collocare il PNRR nel momento in cui è nato. Poi scusate, io ho la R un po' così, sembra che l'abbiamo fatto apposta. PNRR, dicono, non lo so. Bisogna collocare il PNRR nel momento in cui è nato. Primavera del 2020, Covid, c'è un problema fondamentale per un paese come l'Italia, quello di evitare un attacco speculativo, un qualche cosa a cui noi siamo esposti per il nostro alto debito pubblico. Pensate a che cosa è successo in quel momento. Prima la Banca Centrale Europea dice non ci sono soldi per nessuno. Dopo una settimana cambia, anche lì molto rapidamente, molto più rapidamente di quanto avesse fatto in passato, per esempio nel 2012. Però si sentiva che c'era il bisogno di qualcos'altro, che i soldi non potevano venire soltanto dalla Banca Centrale Europea perché si è cominciato a dire ma poi se questi soldi creano inflazione poi la Banca Centrale Europea dovrà smettere di essere il bancomat dei governi come effettivamente ormai ha fatto. E allora si è detto devono venire anche soldi, è così che è partito il PNRR, devono venire anche soldi dall'Unione Europea. Si prendono soldi insieme a prestito e poi li si danno ai vari paesi. Questa era l'origine della cosa e già di per sé, indipendentemente da che cosa si faceva con quei soldi, inizialmente c'è stato un grosso effetto di annuncio che ha portato a un abbassamento dei tassi di interesse pagati dall'Italia. Lo spread è sceso. L'Italia poteva prendere quei soldi, se lo vediamo da questo punto di vista, i PNRR sono innanzitutto finanziamenti. Con quei soldi l'Italia poteva decidere di finanziare le cose che già erano in programma, senza necessariamente aumentare la spesa. E in parte questo è stato fatto. Una parte dei progetti del PNRR, statuto documentato, sono cose che già erano in programma. Poi ci sono state nuove cose da fare. Adesso qual è il problema che è emerso in maniera chiara? Che fare, oltre alle cose vecchie che già dovevamo fare, anche cose nuove, portando il rapporto tra investimenti pubblici e PIL su livelli che non si vedevano da 20-25 anni, e questo sembra essere difficile. Teniamo però in mente un'altra cosa. Il PNRR è fatto di due cose. Una sono le spese, per investimenti, per fare le scuole, gli asili nido, le ferrovie, i porti, eccetera. L'altra parte che è perlomeno ugualmente importante sono le riforme. Ovviamente i soldi servono per spenderli, però ci è stato chiesto e noi nel nostro piano ce l'abbiamo giustamente messo, di fare le riforme che sono la cosa che fondamentalmente è quello che conta, secondo me, per portare l'Italia su un diverso sentiero di crescita rispetto a quello orrendo che abbiamo vissuto nei 20 anni prima del Covid quando eravamo gli ultimi in Europa insieme alla Grecia in termini di crescita del reddito pro capite, della produttività e così via. Fin dall'inizio si sapeva, secondo varie stime, che più o meno metà dell'impatto sulla crescita economica del PNRR sarebbe venuto dalle riforme. però è importante anche la spesa e lì abbiamo quelle difficoltà che abbiamo sempre avuto e che ancora non siamo riusciti a risolvere e che sono già emessi bisogna dire nel periodo in cui c'era ancora Draghi al governo. Soltanto lì quanto si doveva spendere era abbastanza basso. Dal 2023 in poi sono importi più alti. Perché adesso se ne parla meno così rispondo anche alla domanda da cui siamo partiti. è una cosa congiunturale direi. Si è parlato molto del PNRR due mesi fa perché si doveva sbloccare la terza rata dei soldi che non arrivavano basata sulle condizioni che dovevano essere realizzate a fine dicembre scorso. I soldi arrivano quando si raggiungono certe condizioni. Raggiunto l'accordo sulla terza rata adesso è raggiunto non c'è ancora un accordo su come viene cambiato il PNRR il governo italiano ha presentato delle proposte si dovrà cominciare a parlare presto dei soldi della quarta rata e lì ci sono diverse cose che proprio non abbiamo fatto mentre per la terza erano cose relativamente semplici sono sicuro che si tornerà a parlare del PNRR quando si dovranno discutere da un lato la quarta rata e dall'altro se la Commissione Europea accetta le proposte fatte dal governo italiano. La strada è ancora tanta ne sentiremo parlare c'è una cosa e con questo concludo che è cambiata prima di queste proposte presentate dal governo Meloni il governo poteva dire ma questo non è il nostro piano non l'ha fatto Draghi Fratelli d'Italia non l'ha mai votato e in qualche modo la mancata esecuzione del piano il governo la poteva imputare al fatto che il piano era stato fatto da qualcun altro in maniera non particolarmente buona adesso dopo che le modifiche sono state introdotte se saranno accettate questa scusa non vale più quindi il governo è molto più vincolato adesso nella realizzazione del PNRR di quanto fosse prima sentite parlare ovviamente di PNRR ci porta a parlare di conti pubblici stamattina l'ex premier nonché senatore a vita Mario Monti ha scritto un editoriale rivolgendosi al premier ma soprattutto al ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti invitandolo a una sorta di bagno di realismo ora vi chiedo è questo è veramente questo ciò di cui ha bisogno in questo momento il paese e deve essere questo l'orizzonte in cui la manovra di bilancio che si sta discutendo si sta definendo deve andare o invece non servirebbe qualche atto di coraggio dunque l'articolo che lei citava di Mario Monti metteva al centro il debito pubblico allora quello che si dice ogni tanto è che il debito non è un problema finché non lo diventa cioè noi per anni abbiamo accumulato questo debito non ci sembrava perché insomma rimandavamo al domani non ci sembra veramente che ci sia un costo perché in quel momento si fanno delle spese ma si paga domani quindi sembra un po' un pasto gratis un qualcosa che non è che dobbiamo oggi trovare subito le risorse in più come diceva Carlo Cottarelli abbiamo avuto un lungo periodo di tassi bassi con la BCE che comprava il debito non solo il debito era conveniente ma veniva comprato dall'acquirente più meraviglioso del mondo che si chiama Banca Centrale Europea quindi spendere era il momento ideale con la pandemia oltre a spendere sono state sospese tutte le regole di bilancio il famoso patto di stabilità e crescita che si sta discutendo in questi giorni quindi si poteva spendere costava poco e ci diceva la Commissione Europea che dovevamo anche spendere molto quindi meraviglioso il nostro debito è arrivato a un picco di 155% del PIL ora le cose sono cambiate ecco perché Mario Monti oggi scrive attenzione il contesto non è quello di qualche mese fa la BCE deve alzare i tassi perché è arrivata una nuova variabile che si chiama inflazione lo vediamo tutti i giorni quando andiamo a fare la spesa quindi la cura dell'inflazione ahimè non è che ce ne sono tante è quella di aumentare i tassi e quindi questo fa sì che il debito pubblico diventa più oneroso se andiamo a guardare quanto il nostro paese lo Stato spende in spesa per interessi cioè per il costo del servizio del debito siamo intorno ai 75 miliardi per darvi un'idea di quant'è è 10 miliardi in più di quello che noi spendiamo per l'istruzione cioè noi lasciamo ai nostri figli il fardello del debito e spendiamo meno per formarli ecco perché il debito è un problema in più il debito italiano in questi anni cioè dalla crisi finanziaria del 2012 ad oggi è sempre aumentato negli altri paesi europei invece lentamente è sceso ce n'è uno solo come noi che è la dinamica come la nostra che è la Francia che è arrivata oramai a 110 però è sempre molto inferiore al nostro noi siamo intorno a ancora sotto il 140% il fatto che il nostro debito è un problema lo vediamo anche da un altro indicatore che è il famoso spread il spread è quella differenza tra il rendimento che noi paghiamo sul debito e il debito tedesco che è diciamo il debito più considerato più come dire affidabile oggi venerdì oggi è tutto chiuso il spread italiano era 173 punti base mi sono andata a guardare quello greco la Grecia vi ricordate tre piani di salvataggio un disastro l'austerità gli aiuti eccetera oggi venerdì scusate non oggi spread greco 131 punti base quindi oggi il nostro debito è considerato da chi investe da chi lo compra è più preoccupante rispetto a quello greco quindi la domanda il debito è un problema beh in una condizione come quella attuale di tassi che forse non aumenteranno ancora la prossima settimana vedremo ma sicuramente rimarranno alti ancora per un po' beh il debito va gestito e questo per rispondere alla domanda del direttore è quello che secondo me dovrebbe fare e mi sembra che questa sia la direzione del governo con la prossima Nadef aggiornamento nota di aggiornamento del documento di economia e finanza che è quel documento governativo in realtà è un aggiornamento di un documento già fatto ad aprile ma è quel documento che fa la cornice cioè definisce i conti pubblici per i prossimi tre anni in cui poi il governo mette dentro tutte le misure da fare in legge di bilancio ecco questo perimetro con un debito così elevato con uno spread che ci dice attenzione beh il perimetro è molto stretto ecco che vediamo leggiamo sui giornali frasi tipo frasi anche banale lasciatemelo dire non si può fare tutto beh questo lo sapevamo già prima che non si può fare tutto e forse aggiungerei per fortuna però ecco tutte quelle promesse elettorali che si sono fatte e non si potranno fare anche vero che in campagna elettorale si dicono un sacco di cose tanto per prendere voti e sappiamo benissimo che non verranno fatte però ecco in una fase come quella attuale dove oltre a tassi alti dall'anno prossimo torneranno le regole di bilancio europee quindi è finita l'era di possiamo chiamarla così spesa facile questo non c'è più basta la spesa deve essere selettiva noi dobbiamo dare a chi ha più bisogno c'è i famosi bonus biciclette bonus monopattino a tutti e qui forse bisognerebbe aprire ma mi taccio il bonus 110% ma poi ne parliamo poi ne parliamo ecco quello è finito noi dobbiamo fare una gestione prudente cauta e soprattutto una politica economica che sia selettiva cioè dare a chi è messo peggio il bagno il bagno di realismo a cui Mario Monti faceva riferimento implicitamente significa che alcune riforme bandiera della cosiddette bandiera della maggioranza dalla revisione delle aliquete all'autonomia differenziata al presidenzialismo probabilmente ovviamente nella tesi di Monti dovranno essere accantolate perché non ci sono le risorse necessarie stanno proprio così le cose si stanno così le cose teniamo a mente una cosa che soltanto per evitare un aumento delle tasse il governo deve trovare circa 10 miliardi perché i tagli dei contributi parlo di tasse in maniera non tecnica i contributi sociali che sono stati tagliati da prima Draghi e poi da Meloni quei tagli erano temporanei e finanziati soltanto fino alla fine di quest'anno quindi a carte ferme se il governo non trova 10 miliardi dal primo gennaio aumentano le tasse in busta paga si trovano meno soldi questa cosa qui il governo non se la può permettere ci sono 4 miliardi che sono già stati messi da parte però come meno ce ne sono altri 6 e vorrei sottolineare una cosa nonostante il governo sia stato molto fortunato per una decisione presa dall'istituto centrale di statistica e dall'istat che riguarda una cosa un po' tecnica ma proprio è importante perché riguarda come saranno contabilizzati le spese o le minori entrate del bonus 110% non entro nei dettagli ma nella sostanza è che questo ha tolto 16 miliardi di minori entrate dal bilancio del prossimo anno li ha spalmati negli anni precedenti nonostante questo per dirvi la tensione che esiste nei conti pubblici il governo deve trovare 10 miliardi soltanto per evitare un aumento delle tasse come detto soltanto 4 sono stati messi da parte c'è la questione non so se poi ne vogliamo parlare anche di quello c'è la questione di come potrebbero essere utilizzati a copertura di queste operazioni che devono essere fatte che sono state promesse le entrate derivanti della tassa sulle banche sembrerebbe che non possono essere utilizzate perché la ragioneria generale dello Stato si è rifiutata di certificare che ci saranno un certo imposto di entrate ha semplicemente detto nella relazione tecnica ci saranno effetti positivi ma non siamo in grado di quantificarli se la ragioneria non è in grado di quantificare la cifra quella cifra non può essere usata a copertura quindi quei 3 miliardi di cui si parla potrebbero non essere utilizzabili per la prossima legge se poi parliamo delle nuove cose che devono essere fatte il governo aveva promesso una riduzione della pressione fiscale come ho detto invece soltanto mantenere la costante sarà difficile ci sono i soldi per i rinnovi dei contratti dei dipendenti pubblici alcuni dei quali non sono stiamo parlando ancora per le storie quasi ci sono i soldi che sono assolutamente necessari per la sanità perché la sanità è sotto pressione sapete bene che con l'inflazione sono aumentati i costi con l'inflazione sono stati tagliati gli stipendi nella sostanza come potere d'acquisto di chi lavora nel settore della sanità come peraltro anche in altri settori compresa la pubblica istruzione e quindi non è poi così strano se i medici che stanno nella sanità pubblica se ne vanno a lavorare da qualche altra parte da qui l'urgenza di fare qualcosa per la sanità ci sarebbero anche i soldi necessari per il superamento tanto sbandierato della legge Fornero lì sembra che ormai il governo abbia rinunciato semplicemente decidendo di rinnovare per un altro anno la cosiddetta quota 103 insomma le necessità sono tante e non dimentichiamo anche che il governo ha intenzione di aumentare le spese militari entro un certo orizzonte temporale ultima cosa che voglio dire queste cose in qualche modo si sapevano benissimo quindi adesso uno dice il governo è sempre così e guardate chi vince le elezioni va al governo e dice purtroppo abbiamo scoperto che non ci sono soldi il governo precedente ci ha lasciato un buco non c'è niente che non fosse conosciuto quello che è incredibile è che l'opinione pubblica sia ormai assuefatta a queste promesse elettorali in cui si promettono mari e monti che cose che poi non vengono realizzate o vengono realizzate solo in parte prendiamo anche il re di cittadinanza il re di cittadinanza come era stato proposto prima delle elezioni doveva costare 15 miliardi poi il governo giallo verde arriva al governo ce ne sono soltanto 7 e mezzo tutte queste promesse vengono fatte senza tener conto di senza rispondere alla domanda da dove verranno i soldi per fare certe cose adesso per fare un po' di pubblicità a quel piccolo periodo che ho fatto in Parlamento io ho presentato un disegno di legge che avrebbe obbligato i partiti politici a indicare nei loro programmi elettorali le coperture delle promesse fatte questo per dare più trasparenza al sistema è anche legittimo guardate è anche legittimo è anche legittimo dire io queste cose le voglio finanziare in deficit aumentando il debito però lo dovete dire in maniera tale che tutti siano in grado di capire un modo molto diciamo amato e utilizzato di indicare le coperture è quello del autofinanziamento e qui entra perfettamente il 110% cioè cosa si dice fu detto anche per esempio per quota 100 o per il reddio cittadinanza noi spendiamo molto spendiamo anche a debito ma non dobbiamo trovare le coperture perché lì l'impatto sulla crescita sarà talmente elevato che ci saranno talmente tante entrate che andranno a ripagare il costo iniziale ve lo ricordate il famoso moltiplicatore uguale a 1 poi io sono andata a guardare neanche nel Vangelo si parla di moltiplicazione lì si parla direttamente di miracoli però insomma il moltiplicatore è una roba che piace moltissimo e che permette di raccontare ma io le coperture le avevo scritte infatti se andiamo a guardare i vari programmi elettorali è una cosa che io ho fatto beh trovate che ci sono queste famose coperture dell'autofinanziamento e l'esempio più meraviglioso è il 110% che ora ci stupiamo tutti ma guardate che è una misura che ti dà più soldi oltre il 100% non esiste in nessun paese al mondo e questo ci avrebbe dovuto fare un po' sospettire siamo noi gli unici intelligenti che abbiamo trovato l'uovo di colombo che ti permette di mettere 100 e l'impatto sull'economia è talmente elevato che possiamo autofinanziarsi i dati ci dicono quello che già sapevamo che non è assolutamente così per l'appunto poi questo bonus è anche regressivo e qui ritorniamo alle famose bonus biciclette perché è andato anche a chi non ne aveva davvero bisogno quindi siamo arrivati a una situazione paradossale in cui la parte meno abbiente della popolazione e chi questo bonus non l'ha neanche utilizzato si ritroverà a ripagarlo perché poi il debito sta lì il debito lo ripaghiamo tutti non solo lo ripagheranno in futuro i nostri figli ma lo ripaghiamo noi oggi con la spesa per interesse ecco quindi secondo me era interessante questo aspetto dell'autofinanziamento facciamoci caso e facciamo siamo sempre un po' perplessi faccio una domanda volevo chiedere una cosa su questa nel mio disegno di legge questo problema non ci sarebbe stato perché le ipotesi macroeconomiche cioè l'effetto sulla crescita di certe misure avrebbe dovuto essere certificato dall'ufficio parlamentare allora lei doveva continuare a fare il senatore ma il problema è che non basta essere lì fare una non basta essere lì non può venire qua dicevo ho fatto delle cose poi però se ne è andato eh sì me ne sono andato perché come ho detto non è che si facesse molto progresso quando si presenta un disegno di legge è fondamentale poi che il disegno di legge venga portato avanti quando io ho chiesto l'appoggio in questo disegno di legge di Fratelli d'Italia perché mi sembrava una cosa talmente ovvia un'operazione di trasparenza quando Maran che è il capo dei senatori presidente dei senatori di Fratelli d'Italia mi ha detto che ma guarda io personalmente sarei anche d'accordo però io mi sono consultato allora ho capito che non sarebbero saremmo andati da nessuna da nessuna parte c'è una cosa da dire rispetto a quello che ha detto Veronica che è giusto e cioè che c'è perlomeno l'occhio della ragioneria generale dello Stato che è un po' nei programmi elettorali si dice questa cosa la flat tax ma questa si autofinanzia non c'è problema poi quando si arriva al governo c'è la ragioneria generale dello Stato che pone un limite alle cose che sono realistiche si può rifiutare di dire guardate questo non ha questo impatto sulla crescita la ragioneria segue certe regole che sono abbastanza rigide la realtà è che il bonus 110% fin dall'inizio si è detto si finanzia in deficit si finanzia con i soldi della banca centrale europea che per il 2020 il 2021 e parte del 2022 era diventato il bancomat del governo o dei governi europei quindi non c'era neanche il problema il deficit pubblico nel 2020-2021 cioè la differenza tra la spesa e le entrate dello Stato quello e il deficit è arrivato su livelli che non si vedevano dalla seconda guerra mondiale livelli enormi a quel punto lì non c'era neanche il problema delle coperture tanto in quel momento e in parte la cosa era giustificata in quel momento 2020-2021 anche lo spreco può essere utile c'era bisogno di sollevare l'economia buttiamo i soldi per strada la gente li raccoglie e va a spendere anche quello è uno spreco però ti serve il problema è che poi passata l'emergenza bisognava pensare subito che il 110% andava riformato immediatamente alla fine questo governo ci ha dovuto mettere le mani e secondo me ha fatto benissimo a frenare quell'eccesso che si era creato insomma anche a voi da economisti pensando al bonus al super bonus succede quello che succede al ministro Giorgetti cioè gli viene il mal di pancia sì assolutamente anche a lei andava bene all'inizio ma poi è sfuggita di mano insomma è una di quelle cose che in linea di principio non è di per sé sbagliata ma se ne fai troppo se metti troppi soldi in un solo settore se rimuovi il conflitto di interesse tra compratore e venditore perché tanto paga tutto lo Stato ma è ovvio che si creano delle distorsioni è ovvio che le cose scappano di mano al di là degli abusi anche senza abusi scappano di mano e sono scappate di mano e tutti quei soldi che sono andati per questa cosa non sono andati alla sanità non sono andati alla pubblica istruzione dove invece secondo me stavano le priorità io invece sono più severa di Carlo io penso che non andava bene sin dall'inizio cioè non si possono mettere dei bonus che sono sopra il 100% cioè quando parlavo di esagerazione parlavo proprio di quello già al 90% secondo me è troppo cioè lo Stato deve aiutare tra l'altro attenzione questo è un aiuto che è stato dato a un settore che è quello delle costruzioni che è diventato praticamente un aiuto permanente ma allora se noi partiamo dall'idea che per tirare sui settori dobbiamo mettere dei bonus e l'economia tira perché questo è quello che ci viene raccontato da chi l'ha ideato beh allora mettiamo bonus in ogni settore perché non mettiamo un 110% per il settore dei ristoranti delle pizzerie degli automobili ma è chiaro che la cosa non funziona cioè quella è stata una roba per avere consenso e come diceva Carlo pagava il debito pubblico questa roba che non si sa bene cosa sia oggi però ce lo troviamo oggi ci troviamo oltre 100 miliardi di peso del 110 che ci limita quel famoso perimetro cioè in questo momento che sarebbe importantissimo fare delle cose perché siamo usciti dalla pandemia con una grande diciamo ripresa ma se andiamo a guardare i dati già la scorsa settimana il PIL del secondo trimestre ha un segno meno davanti 0,4 meno 0,4 quindi si comincia piano piano a non avere più quel grande rimbalzo che abbiamo avuto dopo il meno 9 del covid quindi in questa in questa fase è importante fare delle cose fatte bene e ci ritroviamo con questo enorme fardello degli errori ecco quindi io quello che penso forse ogni tanto sarebbe utile per tutti noi sentirci dire ci scusiamo per quello che abbiamo fatto perché qui sembra che le responsabilità non ci sono mai e ricordiamoci il 110% è stato introdotto dal conte 2 è stato prorogato dal conte 2 con l'ultima legge di bilancio ed è stato riprorogato dal governo Draghi dove c'erano tutti quindi io francamente qui di non colpevoli non ne vedo e oggi tutti si lamentano ma quando bisognava proporlo nessuno si è alzato dal tavolo su questo la premier potrebbe dire che loro non c'erano tra l'altro noi abbiamo iniziato a parlare di PNRR e sempre il ministro dell'economia ha rilevato che il tema del bonus è inciso sull'efficacia del PNRR perché molte gare soprattutto per interventi di costruzione sono andate deserte perché le aziende non erano interessate a partecipare avendo la possibilità di partecipare a lavori finanziati con il super bonus che erano naturalmente molto più remunerativi per cui poi gli effetti distorsivi di interventi di questo genere si propagano in molte direzioni prima abbiamo parlato ne ha accennato se non sbaglio Cotarelli della tassa sugli utili bancari e su questo volevo conoscere la vostra opinione la genesi di questa tassa di questa imposta che peraltro a tutt'oggi non è stata ancora definita nei suoi dettagli è spuntata un po' improvvisamente come un sogno di mezz'estate ha creato particolari turbolenze anche nel governo perché una parte del governo non era stata informata non era molto d'accordo ha spiazzato le banche perché ovviamente modificare una regola in corsa genera problemi di vario tipo ha però ottenuto nel mondo politico un consenso abbastanza trasversale perché si è detto in fondo grazie al rialzo dei tassi di interesse le banche hanno guadagnato molto quindi è giusto che restituiscano sintetizzo ecco volevo sapere la vostra di opinione su questa tassa vado allora quando servono delle risorse ci sono tre modi uno è il debito e l'abbiamo detto in questo momento non abbiamo margini l'altro si tagliano altre spese e si recuperano risorse però questo lascio la parola al nostro commissario della spending review è un'operazione che bisogna preparare per tempo bisogna avere gente come Carlo Cottarelli insomma è un po' tardi e poi tagliare le spese spesso si dice tagliamo le tax expenditures quelle famose deduzioni e detrazioni beh se le tagliamo andiamo a togliere privilegi a gruppi di potere organizzati che insomma non sono molto contenti rimangono le tasse beh anche qui le tasse non è che piacciono molto allora qual è l'escamotaggio di questa tassa sulle banche è la tassa giusta questa è la spiegazione il racconto qual è questa tassa è giusta perché stiamo prendendo soldi a chi ha guadagnato e qui è l'altra parolina magica troppo ora bisogna fare molto attenzione quando un governo usa le parole giusta e troppo perché chi lo decide cosa è troppo qui il governo l'ha deciso ha deciso che è una certa percentuale su una differenza fra tassi passivi e tassi attivi ma magari quella percentuale potrebbe essere più alta più bassa cioè noi abbiamo un governo che entra nel settore privato nel lavoro delle persone e dice tu hai guadagnato troppo troppo lo decido io ecco quindi qua già c'è qualcosa a mio avviso di profondamente sbagliato il secondo aspetto e poi ce n'è un terzo e concludo il secondo aspetto è la colpa diciamo hanno guadagnato troppo perché la BCE sta alzando i tassi beh allora mi verrebbe da dire per tutti i lunghi anni in cui la BCE i tassi li teneva bassi hanno guadagnato troppo poco e allora bisognerebbe avergli dato in quel momento una specie di aiuto come vedete non può funzionare solo quando è troppo e non quando è troppo poco terzo errore di questa tassa è che azione c'è reazione cioè non è che le banche ti stanno a guardare ma anche se uno avesse tassato un altro settore beh mi tassi io in qualche modo faccio trovo un modo di reagire e quello che succederà ma probabilmente questa tassa alla fine non la faranno è che il rischio qual è? che saranno penalizzati proprio quelli che si volevano proteggere dall'inizio cioè chi deve prendere un mutuo chi ha bisogno di prestiti perché le tasse e le banche in qualche modo aumenteranno le commissioni o troveranno un modo di erogare meno credito quindi questa è una tassa profondamente sbagliata ma soprattutto perché nasce dall'idea della tassa giusta ecco la tassa giusta con la definizione che ti dice il governo che tu stai guadagnando troppo normalmente hanno vita breve e non funzionano contarelli se fosse stato ancora senatore questa tassa Robin Hood l'avrebbe votata questa è una stupidaggine questa tassa ripeto alcuni degli argomenti che sono stati fatti magari aggiungendo qualcos'altro ma nella sostanza per questo governo ci sono dei settori che sono buoni e dei settori che sono cattivi i buoni sono per esempio i balneari oppure i tassisti i cattivi ci sono le banche però anche i benzinai sono cattivi tant'è vero che hanno dovuto esporre questo cartello che non serve assolutamente niente sulla media del prezzo regionale e così via buoni e cattivi allora perché questa cosa questa tassa qui è fatta male è sbagliata e guardate io non sono mai stato tenero con le banche anche nel mio ultimo libro parlo di tutti i problemi che hanno causato il settore finanziario mondiale compresa la crisi del 2008 il 2009 quando ero al Fondo Monetario Internazionale il mio dipartimento aveva proposto a livello globale una nuova tassa su tutte le istituzioni finanziarie per compensare del fatto per esempio che non esiste l'IVA sui servizi bancari di intermediazione quindi non sono certo tenero sulle banche però insomma andiamo a vedere questa cosa tassa sugli extra profitti del settore bancario uno può anche pensare di mettere una tassa sugli extra profitti ma gli extra profitti ci sono non soltanto eventualmente nel settore delle banche dice i tassi di interesse sono aumentati ma il tassi di interesse è il prezzo della moneta sono aumentati tutti i prezzi quindi potenzialmente ci possono essere extra profitti in tutti i settori perché farlo soltanto per le banche perché le banche sono cattive secondo punto la tassa non è sul livello dei profitti uno diceva tu hai dato tanti profitti no è sull'aumento dei profitti definendo più o meno un aumento eccessivo come più o meno guardate i numeri sono più o meno il tasso di inflazione in passato se io sono partito da un livello basso di profitti e ho un forte aumento percentuale non vuol dire che sto facendo tanti profitti vuol dire magari che semplicemente mi sono portato a un livello di normali profitti e come ha detto Verone che è anche possibile perché negli ultimi anni i profitti delle banche non sono stati particolarmente alti immagini di intermediazione perché le banche avevano tassi pagavano zero sui depositi bancari ma investivano a tassi di interesse negativi addirittura i tassi sui bot sono stati negativi per un periodo di tempo elevato quindi anche questa è un'altra stranezza non è finito qui ma un provvedimento di questo genere dà proprio l'impressione che sei disperato perché appunto è un provvedimento fuori dalla norma non si può capire forse in una situazione di crisi tipo quella del 2011 2012 allora fai delle cose poco ortodosse ma cambiare le carte in tavola in questo modo in corso d'anno ti dà l'idea che il paese sta andando molto peggio di quello che sta andando il che fa perdere fiducia negli investitori ultimo punto ma ce ne sono anche altri questi sono profitti delle banche le banche non distribuiscono tutti i profitti in buona parte li tengono per aumentare il proprio capitale guardate che i prestiti sulla base della regolamentazione bancaria i prestiti che una banca può fare dipendono dal suo capitale quindi se il capitale proprio delle banche non aumenta perché ci sono meno profitti non distribuiti le banche possono fare meno prestiti e questo fa male all'economia soprattutto in questo momento bene mi sembra che siano opinioni nette da questo punto di vista ma la vostra previsione la sua l'ho già sentita la sua previsione che alla fine questa tassa si farà o no? la devono attenuare già Forza Italia ha detto escludiamo le piccole banche che però in realtà forse loro hanno in mente soltanto le banche cooperative non le banche di piccola dimensione inizialmente però era stata proposta una cosa che nella conferenza stampa avevano detto cose assurde avevano detto questa tassa sì non può superare un quarto del capitale di una banca ma se una banca perde un quarto del capitale ma a questo punto qui si determina già una corsa ai depositi poi di tanti cominciano a scappare perché cominci con un quarto un quarto è tanto è un'enormità poi hanno già moderato le cose inizialmente si dovrà raccogliere in teoria cose enormi se si fosse applicato come era stata iniziata inizialmente annunciata la modificheranno ma il governo non può perdere la faccia la Meloni tiene molto a una cosa la coerenza e quindi non ammetterà mai di avere sbagliato e quindi questo provvedimento andrà avanti attenuato con un mucchio di cose anche negoziate con le banche però rimane comunque un errore d'accordo anche lei? sì quello di cui si è parlato è di un famoso di nuovo credito di imposta cioè la banca ti dà oggi e poi la detrai dalle tasse che è un po' il meccanismo del 110% quindi traduzione debito pubblico perché non è più una tassa e io oggi ti do 100% poi li scalo dalle mie tasse in poche parole dovrò avere bisogno di altre coperture quindi è un po' il solito giochetto se la soluzione è questa qua vi volevo interrogare su un altro tema un altro strumento di politica sociale in questo caso che è stato molto dibattuto e in questi anni il reddito di cittadinanza su cui tra l'altro che adesso verrà modificato anzi è stato modificato ma su cui le giravolte della politica sono state sono state innumerevoli perché un partito che era il governo e che quindi ne ha condiviso la nascita oggi poi è diventato uno streno oppositore un altro partito che quando era l'opposizione l'aveva contestato oggi difende questo strumento ecco il reddito di cittadinanza è uno strumento sbagliato nella sua filosofia nella sua impostazione o è uno strumento necessario ma usato male allora è chiaro che ci voleva ci vuole come in tutti i paesi un sostegno alla povertà ma come è stato costruito questo reddito di cittadinanza proprio dall'inizio dai 5 stelle perché è proprio un cavallo di battaglia del movimento 5 stelle è stato costruito con due facce lotta alla povertà e strumento che dovrebbe servire a far trovare un'occupazione diciamo anche che è stato introdotto proprio al ridosso delle elezioni europee in grande fretta perché di nuovo serve sempre per avere consenso prima del voto e quando fu introdotto nel 2019 neanche c'erano i famosi navigator ce li ricordiamo nei centri per l'impiego quindi diciamo quella seconda gamba di aiuto a trovare un lavoro non era neanche pronta ma l'errore è aver messo in un solo strumento due obiettivi enormi che è uno ridurre la povertà l'altro è ridurre la disoccupazione ma perché è stato fatto questo errore cioè è stato fatto un errore e non se ne sono accorti o l'hanno fatto apposta ecco il mio sospetto che l'hanno fatto apposta per un motivo sempre legato alle coperture e qual è il motivo cioè se tu vuoi fare un sussidio che serva ad aiutare i poveri beh le coperture le trovi redistribuendo prendi da chi ha e dai a chi ha di meno una famosa patrimoniale per esempio ma i 5 stelle si sono sempre detti contrari a una patrimoniale l'aver introdotto la parte sul lavoro gli ha permesso di usare la solita storia dell'autofinanziamento se voi vi andate a rileggere le dichiarazioni che faceva all'epoca il ministro del welfare Luigi Di Maio lui diceva che ci sarebbe stato talmente tanto effetto sul mercato del lavoro che la misura si sarebbe autofinanziata perché avrebbe creato crescita che avrebbe creato nuove entrate e questo ha permesso di introdurre una misura che non è costata quanto si pensava ma comunque fino ad oggi sono 30 miliardi senza avere delle vere coperture perché si sarebbe autofinanziata quindi diciamo la seconda gamba è stata uno strumento per giustificare la spesa oggi come vediamo i risultati da una parte e dall'altra non si sono avuti e sono veramente veloce per quanto riguarda la povertà c'è un aspetto che secondo me è molto preoccupante se andiamo a guardare i dati IMS chi aveva l'assegno dall'inizio lo ha ancora oggi e sono circa l'85% delle persone cioè la povertà diventa uno status e non è quello l'obiettivo del sussidio tu dovresti uscire dalla povertà dovresti passare da povero a occupabile e poi eventualmente da occupabile a occupato invece le categorie sono molto statiche cioè chi entra nella categoria dei non occupabili la rimane chi invece è occupabile rimane non occupato e qui si capisce che il sistema intorno non funziona cioè non sono stati potenziati i servizi sociali non sono stati potenziati i centri per l'impiego due parole sulla riforma in corso una cosa che mi piace una cosa che non mi piace non mi piace che i non occupabili nella definizione che è stata data dalla ministra Calderone sono le persone sotto 59 sopra 59 anni sopra i sessantenni e chi ha a carico dei minori ecco in un paese come il nostro dove c'è un enorme problema di occupazione femminile non si può considerare che una donna che ha dei figli minori non può lavorare c'è un messaggio sbagliato che noi stiamo dando bisognerebbe dire c'hai dei figli a carico lo Stato ti aiuta non che lo Stato ti tiene a casa sussidiandoti perché questo è il modo migliore per creare un esercito di giovani donne senza skills che saranno delle pensionate povere cioè qui la vita si allunga e queste donne che oggi non lavorano saranno magari non penso contente ma insomma riceveranno il reddito però perderanno know-how usciranno definitivamente dalla categoria delle occupabili e diventeranno delle pensionate povere invece la cosa che mi piace per quanto riguarda l'altra gamba quella delle politiche attive mi piace molto che è stata tolta la parola congruità sono brevissima nel disegno originale tu potevi rifiutare un'offerta di lavoro se arrivava ahimè perché c'era anche un problema di piattaforme che ora il governo dovrebbe più o meno risolvere speriamo tu potevi non accettare una proposta sia perché era troppo distante eccetera oppure perché non era in linea con le tue competenze non era appunto congrua ecco questo è stato eliminato io sono molto d'accordo perché lo scopo di questo sussidio non è quello di offrirti il lavoro dei tuoi sogni ma è quello di rimetterti nel mercato del lavoro perché il rischio qual è lo vediamo anche dai dati noi abbiamo un problema di disoccupazione di lungo termine molto elevato cioè cosa vuol dire che tu più sei fuori dal mercato del lavoro più rischi di non entrarci più quindi se il diciamo il modo in cui viene disegnato questo sostegno è tale che tu puoi rifiutare un'offerta se non è totalmente in linea con le tue competenze beh il rischio qual è che tu rifiuti rifiuti magari fai in nero ma insomma sei sempre fuori invece l'obiettivo è di metterti dentro e cominciarti ad avviare a un'attività lavorativa che poi magari diventerà quella che tu vuoi veramente fare ma intanto cominci io non sono così cattivo come Veronica sul perché hanno fatto mettere insieme questi due aspetti nel senso che i due aspetti sono sussidio però anche mercato del lavoro è una critica che è molto ripetuta questa compresa dal Partito Democratico inizialmente la critica principale del Partito Democratico era di aver messo insieme queste due cose però pensateci se avessero fatto una cosa soltanto sui sussidi tu stai a casa senza obbligare in maniera formale ma comunque ci sarebbe l'obbligo di essere disposti a lavorare ma tutti avrebbero detto ma allora stai facendo polternifici quindi non è ci voleva questa componente di obbligo a lavorare certo poi non era un obbligo effettivo perché non è parolette come il congruo tutte queste cose un lavoro più in là di 100 km o 80 km non è accettabile eccetera io ho altre critiche sempre partendo dal fatto che un reddito minimo garantito in un paese civile ci deve essere nessuno deve morire di fame fondamentalmente e ce l'avevano tutti i paesi europei allora il modo in cui è stato fatto però è stato molto sbagliato per diversi punti di vista ne cito soltanto alcuni prima di tutto c'era una sproporzione tra il sussidio dato ai single e alle famiglie con figli perché c'era questa sproporzione questo è un motivo puramente politico inizialmente come ho citato prima il reddito di cittadinanza doveva costare 15 miliardi poi 5 stelle arrivano al governo ce ne sono soltanto 7 e mezzo allora cosa fanno siccome non si poteva toccare i 780 euro per i single perché quello era il numero magico la bandiera allora hanno ridotto i soldi per chi aveva una famiglia e con i figli quindi molto ingiusto per chi aveva un reddito per chi aveva una famiglia con figli l'altra cosa che ho sempre dato molto assurda anche se lo dico è poco politica e corretta in certi ambienti perlomeno è questa qual era lo scopo del reddito di cittadinanza portare tutti al di sopra del livello di povertà assoluta l'ISTAT il nostro istituto centrale di statistica certifica ci sono i numeri che il livello di povertà assoluta in termini di euro che tu devi avere per essere al di sopra di quel livello dipende da dove vivi in Italia a seconda che tu vivi in una grande città o una piccola città c'è un'enorme differenza e diciamolo c'è un'enorme differenza anche se vivi al nord al centro o al sud e quindi in teoria bisognava avere un reddito di cittadinanza che era dipendeva da dove vivevi questa cosa ovviamente era inaccettabile politicamente infatti non è stata fatta negli altri paesi infatti i sostegni di questo genere sono gestiti e anche questo la riforma va nella direzione giusta soltanto che non l'ha fatta in maniera completa questi sostegni sono gestiti a livello locale perché a livello locale sai qual è il costo della vita quali sono le condizioni del mercato del lavoro quali sono anche le condizioni dei servizi pubblici e nei paesi nelle città nei comuni più piccoli sai chi sono i poveri quindi queste cose vanno gestite a livello locale il governo ha deciso di fare questa cosa di decentralizzare la gestione però a questo punto dovrei metterci i soldi perché se non ci metti i soldi poi c'ha i comuni che dicono adesso la gente viene da me e io non ce le ho i soldi che da mettere quindi un provvedimento scritto male sbagliato anche se in teoria come mi sembra concordiamo ci deve essere un reddito minimo garantito in un paese civile sentite stiamo andando verso la fine di questa conversazione il dibattito sulle manovre sui conti pubblici è iniziato con alcune tensioni con l'Europa che per il momento si sono indirizzate verso il commissario commissario Gentiloni è possibile che questo come alcuni sostengono risponda soprattutto a dinamiche politiche molto più nazionali e poco e poco europee quello che vi chiedo è questo queste polemiche queste tensioni fanno prevedere che si aprirà una nuova stagione di conflitti tra Italia ed Europa in vista della nostra manovra di bilancio e con la prospettiva ovviamente delle elezioni europee o invece stiamo parlando di fuochi di paglia insomma di teatrino della politica come avrebbe detto qualcuno si sta riproponendo un problema di tensioni forti tra scelte di politica economica dell'Italia e l'Europa? No dunque se devo dire la verità secondo me no perché Giorgio Meloni da questo punto di vista secondo me ha capito che perlomeno nell'immediato sono due cose che deve fare il governo italiano per andare avanti uno è avere buone relazioni con gli Stati Uniti secondo avere buone relazioni con la Commissione Europea perché è da lì che arrivano tanti soldi e infatti si è mossa in maniera prudente in maniera sapete appunto l'ottimo rapporto di feeling come si dice che si è creato tra lei e Ursula von der Leyen l'attacco a Gentiloni è del tutto ingiustificato ma è un attacco attenzione a Gentiloni non alla Commissione Europea poi la Commissione ovviamente ha dovuto intervenire per difendere Gentiloni ma questo è un attacco a Gentiloni del tutto ingiustificato perché guardate quello che sta facendo Gentiloni è completamente in linea con gli interessi italiani le nuove regole di cui si stanno discutendo sembrano essere fatte apposta per un paese come l'Italia anche troppo generose devo dire e questa cosa che ci sono tre categorie ci sarebbero tre categorie di paesi non è neanche vera come ha chiarito oggi Federico Pulbini in un articolo sul Corriere Corriere della Sera quindi attacco ingiustificato ma non è un attacco alla Commissione non è un attacco alla Presidente Ursula von der Leyen perché Giorgia Meloni sa che deve mantenere buoni rapporti in questo momento naturalmente come si dice in inglese it takes two to tango bisogna essere in due a ballare insieme e qui io vedo un interesse da parte della Presidenza dell'Unione Europea a mantenere perlomeno fino alle elezioni europee buoni rapporti con l'Italia con il governo italiano perché? perché ci sono elezioni il prossimo anno e perché credo che se Ursula von der Leyen vuole ricandidarsi deve avere il sostegno anche dei voti di Fratelli d'Italia quindi in conseguenza di questa cosa io penso che i prossimi per i prossimi 24 per il prossimo anno i prossimi 12 mesi non ci saranno grossi scontri con l'Unione Europea perché non è interesse di nessuno dei due più in là non posso dire lei cosa ne pensa? dunque per tanto tempo l'Europa è stato il nemico preferito contro l'euro è così che sono cresciuti partiti antisistema populisti anti anti Europa poi col Covid ci siamo resi conto che invece stare in Europa è fondamentale lo dicevamo prima nessun paese è così grande da essere da solo poi noi abbiamo preso così tanti soldi sarebbe anche miope una battaglia contro l'Europa quindi penso che sono così delle uscite contro gentiloni come quello la BCE sta facendo male c'è un complotto insomma diciamolo una volta per tutti la BCE è indipendente non fa una politica per un singolo paese ma lo fa in base a dei valori medi dell'area cioè quando la BCE dice devo ridurre l'inflazione non è che guarda l'inflazione italiana l'inflazione tedesca o l'inflazione di Malta guarda l'inflazione media dell'area è chiaro però che quando si hanno tante economie diverse l'azione della BCE può avere degli effetti in un paese che sono diversi dagli effetti da un altro paese ecco perché è così importante convergere ecco perché e ritorniamo al PNRR uno strumento come il PNRR dà soldi a chi è messo peggio proprio per fare in modo di avere un'unione in cui i componenti sono più simili possibili e in questo modo quando la BCE prende una decisione l'impatto sarà uguale per tutti quindi questo per dire che se l'impatto di una decisione che prende la BCE è più negativo in un paese sarà poi compito del governo nazionale fare in modo di attutire questo impatto negativo con le famose politiche selettive quindi con la politica di bilancio concludo due secondi sulle regole la famosa riforma del patto di stabilità e crescita io invece non sono d'accordo con Carlo questa volta devo dire mi trovo contraria all'Europa penso che questa riforma che viene venduta come una riforma più flessibile non lo è per il semplice fatto che non lo si può dire perché questa riforma brevementissimo toglie dei criteri uguali per tutti ad oggi il patto di stabilità dice che tutti i paesi devono fare questo taglio di debito e questo taglio di disavanzo poi uno va lì e più o meno discute per avere la famosa flessibilità cioè dice io sono in una fase di recessione voglio fare le riforme fammi spendere un po' di più e questo è quello che un paese come il nostro ha fatto per esempio il governo Renzi ha ottenuto moltissimi margini di flessibilità ecco la nuova riforma cosa fa toglie questi criteri uguali per tutti e introduce diciamo un dialogo bilaterale tra paesi cioè c'è un negoziato la commissione europea si siede al tavolo prima con l'Italia poi con la Francia la Spagna il Portogallo e tutte le 27 economie e crea diciamo un piano di rientro ecco io in questo negoziato ci vedo molti poteri nuovi che verranno dati alla commissione senza aver cambiato i trattati quindi io sono molto perplessa penso che bisogna stare attenti a dare nuovi poteri e penso che proprio per quello che abbiamo detto prima cioè che l'Italia è l'unico paese che ha un problema serio di debito il fatto di spostare tutta l'attenzione di questa riforma prima era sul disavanzo ora sarà sul debito mi dà molto da pensare che qui il paese che sarà osservato speciale sarà il nostro questo non significa che io non ritenga che bisogna ridurre il debito ma penso che bisogna stare attenti che questa diciamo richiesta arrivi dall'Europa perché poi ricominciamo con il film ce lo chiede l'Europa ce lo chiede l'Europa un film che abbiamo già visto insomma direi che non è il caso di rivederlo perché ci ha fatto solo male sentite l'ultima domanda che faccio entrambi si sta discutendo ovviamente di manovre di bilancio eccetera ecco vi chiedo qual è una riforma una norma un elemento che vorreste fosse presente nel prossimo documento di programmazione economica e che però ragionevolmente riterrete che non lo sarà mai allora voglio commentare un attimo sulla cosa sulle regole europee a me non piace molto questo approccio qui e non volevo dare l'impressione dico soltanto che secondo me piace all'Italia proprio perché c'è tutta questa speranza di flessibilità poi vediamo se sarà fatta o meno però non pensiamo che la commissione europea quando si siede a un tavolo sia particolarmente forte la commissione europea è stata debolissima negli ultimi vent'anni nel forzare nell'implementare le regole europee anche se le regole erano abbastanza precise figuriamoci adesso che ci si siede un tono in tavola e si finisce a taralluce vino ecco questa è la preoccupazione vera si finisce a taralluce vino in questo senso a molti piace perché non impone degli vincoli particolarmente forti ma io non l'avrei fatto in questo modo la riforma abbiamo fatto proposte simili anche come osservatorio sui conti pubblici italiani ma con delle differenze fondamentali sulle caratteristiche che doveva avere questo piano di rientro non che ci si siede intorno al tavolo e si discute le cose che mi piacerebbe trovare nella legge di bilancio e che non sicuro non troveremo sarebbero provvedimenti di vario genere una lotta seria all'evasione fiscale e io sono sicuro questa non la troviamo perché già nello scorso nella scorsa legge di bilancio la prima cosa che è stata fatta è fare un nuovo condono ecco l'ultima cosa che vorrei ma temo ci possa essere è che le risorse per la prossima legge di bilancio vengano dall'ennesimo condono bene lei invece che desideri avrebbe ne avrei due uno è formazione noi abbiamo bisogno veramente di formare però lì mi devi trovare le coperture sì certo le coperture le troviamo assolutamente qui col commissario non si può usare la parola autofinanziamento dunque perché la formazione è così importante un dato siamo il paese che ha messo più settimane la scuola in dad 37 settimane di didattica a distanza era obbligatorio? no la Francia ne ha messo 17 perché noi l'abbiamo fatto? forse perché non ci siamo troppo preoccupati della formazione dei nostri figli ma anche perché abbiamo poche donne che lavorano quindi potevano stare a casa e occuparsi dei loro figli nei paesi dove le donne lavorano per esempio in Francia una dad troppo alta non sarebbe mai stata diciamo accettata quindi si è creato un circolo virtuoso dove abbiamo tirato su una generazione perché la dad è assolutamente iniqua perché soprattutto al sud dove non è stato possibile organizzarla bene i nostri giovani hanno perso capitale umano in maniera strutturale ci sono degli studi che oramai lo dimostrano chiaramente cioè noi abbiamo una parte di forza lavoro che arriverà sul mercato e ha perso capitale umano proprio per queste scelte scellerate che sono state fatte quindi risorse che prenderemo dalla lotta all'evasione che ci suggerisce il professor Cottarelli per la formazione è l'altro grande tema che mi sembra che il governo timidamente abbia messo in agenda è quello della demografia che è il vero problema perché tutto quello di cui abbiamo detto oggi sui conti pubblici si regge su un solo pilastro che è la demografia cioè se non abbiamo persone che domani pagano i nostri future pensione beh qui crolla tutto compreso il nostro debito la demografia si associa ovviamente all'occupazione femminile perché i dati sono molto chiari lì dove aumenta la curva di natalità aumenta anche il tasso di occupazione femminile ecco sarebbe importante però un'ultima annotazione se questo governo ha fatto molto bene a mettere la parola demografia per la prima volta nella definizione di un ministero perché noi abbiamo il ministero della famiglia delle pari opportunità e della demografia quindi bene che usiamo questa parola ma male che l'abbiamo messa in quel ministero perché le famiglie sono anche quelle senza figli la parola demografia la dovevamo mettere al ministero del lavoro perché se veramente vogliamo dare un impulso bisogna che le donne lavorino di più in questo paese e che lo Stato faccia qualcosa davvero efficace per aumentare il tasso di occupazione femminile bene direi che con i desiderata che però verosimilmente andranno assolutamente delusi di Carlo Cottarelli e di Veronica de Romanis abbiamo concluso questa nostra chiacchierata che è partita dal PNRR ed è poi spaziata come era giusto credo fosse su tanti temi dell'economia e abbiamo avuto l'opportunità e la fortuna di farla con due economisti che sanno parlare di economia facendosi comprendere da tutti e questo non è un dettaglio buona serata a tutti arrivederci grazie buona cena